Non posso che ringraziarla e non ho parole per quello che ha detto ovviamente. Questi sono episodi comunque veri. Qui io sto raccontando spezzoni di vita e leggerli secondo me mi ha emozionato tantissimo e emozionerà sicuramente anche i lettori. Senta, ma lei queste informazioni come è riuscite ad avere andatisi nel documentato? Ma io intanto ho la mia bella età, anche se la nascondo sotto i capelli tinti, come ha detto lei una volta. E quindi ho fatto le mie esperienze, ho conosciuto molte persone e soprattutto sono curioso, come lei ha visto, ho fatto la domanda, era anche l'ospite che abbiamo qui vicino, perché è il mio costume chiedere su tutto. Quando ho affrontato questo tema, che tra l'altro avevo già sentito fin dagli anni scorsi, da quando addirittura ero ragazzo, quando ho affrontato questo tema ovviamente mi sono ulteriormente documentato e ho sentito diverse persone. Ovviamente il problema è questo, chi ha subito dei torti, delle sevizie, soprattutto nel mondo della Chiesa, sono persone che difficilmente lo raccontano. Bisogna che qualcuno gliele chieda. Poi cominciano con le lacrime agli occhi, con le sofferenze che hanno avuto quando hanno vissuto questi momenti tragici, cominciano a raccontarti queste bruttissime esperienze. Però bisogna chiederlo, bisogna indagare. È un tema purtroppo nascosto, tenuto sempre sotto traccia, poco sentito da parte di mass media, i quali spesso lo evitano. Lo evitano quando devono dare una notizia di pedofilia, si limitano a dire due parole e poi passano subito al servizio successivo, non fanno neanche il minimo di approfondimento. Quindi è una materia purtroppo ancora coperta da uno strato enorme di… Sì, diciamo una materia un po' scomoda, quindi ne confermo.